La guerra alla ludopatia entra nel vivo a Rimini. Nel prossimo paio d'anni la città sarà ripulita da slot machine e dispositivi di videolotteri dai pressi dei cosiddetti luoghi sensibili. La giunta comunale ha approvato l'aggiornamento della mappa che, in base alle direttive regionali, indica le aree di rispetto entro cui non è consentita la presenza di apparecchi per il gioco d'azzardo. Scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, parrocchie sono alcuni dei punti di aggregazione da salvaguardare che, entro un raggio di 500 metri, vedranno applicate le misure antigioco. Vari le tipologie di locali prese in considerazione. Delle 23 sale scommesse presenti, 18 dovranno chiudere ed eventualmente traslocare al di fuori delle aree sensibili, tra queste una sala bingo e un centro trasmissione dati. Entro la fine del 2022 poi, 17 sale giochi sulle 20 mappate dovranno dismettere le slot se non vogliono delocalizzare pure loro. Tra i 122 bar e tabacchi che a Rimini presentano apparecchi oggetto della normativa, solo una decina può continuare a tenerli, gli altri rientrano nelle fasce di rispetto. Sono infine 12 i corner con video lottery che dovranno cessare entro la fine di quest'anno, ospitati dentro esercizi che svolgono altri tipi di attività. I locali che scelgono volontariamente di rinunciare al gioco d'azzardo potranno freggiarsi del marchio slot free. Grazie a tutti.